Incomincio io a intravedere una stanchezza, tutti si aspettavano che questo braccio di ferro fosse vinto in 26,2 ore, sono tre mesi e non succede niente, quindi più il tempo passa, meno gas hai, più questo è così, più quello è colà, più diventa difficile riuscire a spiegare e rendere legittima la battaglia in favore dell'Ucraina. Questo è un vero problema, io vedo che comincia a esserci, c'è proprio stanchezza, però comincia a diventare una specie, io non voglio morire per Danzica. Esatto, stanchezza è anche la sua inflazione, Giorgio, i primi due settimane erano eroiche, adesso si comincia a dire cosa vuole Zelensky, era un attore, queste cose qua, sono piccoli segnali, brutti, brutti. Poi bisogna vedere come saranno le maggioranze, perché domenica in Francia, io stamattina sono tornato dalla Francia, ero in Francia, e dovete vedere i manifesti di Mélenchon. Pensione a 60 anni, stipendio minimo così, cose che penso neanche i 5 Stelle avrebbero il coraggio di chiedere. Quindi immaginate quello che può succedere in Europa con un'insorgenza di questo genere di richieste che poi vengono effettivamente soddisfatte, ma come clima. Lasciateci in pace perché noi vogliamo andare in pensione a 60 anni, avendo una pensione enorme perché ci vogliamo godere la vita, non ci state a strobazzare con la tragedia, noi vogliamo la poesia. Secondo me questo è il grande pericolo. Condivido, infatti l'opinione pubblica secondo me sta cominciando a vivere con la sua effazione un pochino di fastidio le notizie che arrivano da lì. Mentre ci sono persone che combattono per la loro libertà, più di qualcuno da questa parte comincia a pensare e neanche tanto a nasconderlo e basta, adesso fateci fare le vacanze in santa pace. Sì siete dei fanatici, sono d'accordo, infatti no, è così, purtroppo a quel punto però il sistema politico in qualche misura capta queste cose qua e non riesco a capire come possa rendere pratico quello che capta sentendo che la gente vuole avere il gas e andare in vacanza e non stare a pensare a questa queda. E' un gravissimo problema che c'è fuori discussione, poi ci sono anche degli aspetti più complicati ancora sulla questione del gas in Germania, tu hai tutta l'industria chimica, quindi hai la confindustria, hai i sindacati, hai questo, hai quell'altro. Non è che è una passeggiata questa storia di uscire dalla dipendenza, dalle materie prime, anche perché devi fare degli investimenti abnormi per sostituire il petrolio e il gas, e così via. E' un argomento di cui si parla poco, perché quanto bisogna investire per uscire da questa dipendenza e così via dicendo. Poi ci sono troppi scontenti, per esempio gli armatori greci che trasportano la metà del petrolio russo via mare, che non possono più trasportarlo, e quelli certamente contenti non sono. E via dicendo. Quindi siamo d'accordo, la parte difficile inizia adesso. Io credo che manchi in questo momento una consapevolezza, non so come dire, l'approccio che io vedo venduto è quello di dire questo è un caso eccezionale che fondamentalmente dobbiamo risolverlo il più rapidamente possibile. Cioè sostanzialmente ci possiamo mettere un mese, ci possiamo mettere due mesi, ma poi si torna business as usual nel giro a fare le cose che si facevano esattamente prima. Punto vero, e su questo secondo me Putin ha detto una cosa vera, dice il mondo unipolare è finito. E' vero, ha assolutamente ragione, però questo ha delle conseguenze, la conseguenza pratica è che quando Putin finisce con l'Ucraina, non è mica si ferma lì, cioè si ferma dove decide di fermarsi fondamentalmente, può decidere che vuole un pezzo della Moldavia, vuole un pezzo, vuole andarsi a prendere i baltici, vuole andare a rompere le scatole a Finlandia, cioè fa quello che vuole. E in questo momento, ripeto, questo secondo me è un po' il ruolo che dobbiamo avere anche noi come liberologico, cioè far capire che su questo Zelensky aveva perfettamente ragione, questa non è la guerra dell'Ucraina. Cioè non è una cosa che finisce lì e finisce con, cioè il risultato di questa determina un sacco di cose che succederanno in Europa e diciamo le vacanze, la pensione dei francesi dipendono da quello che succede in Ucraina. Sì, tieni conto che è già successo, perché tu dicevi vuole i Sudeti e diamogli, vuole stare tranquillo, vuole questo e diamogli, vuole stare tranquillo, cioè questo è un film che hai già visto. Tra l'altro voglio aggiungere una cosa così adesso mi è venuta in mente, alla luce del conclamato a questo punto, veramente non capisco che lo possa più negare, della conclamata volontà di Putin, quantomeno di continuare ad essere aggressivo verso i paesi di Mitrovi. Adesso non dico che farà come Pietro il Grande, come ha detto l'altro giorno, però la minaccia c'è. Secondo me il logoramento della Russia è una cosa necessaria, il logoramento economico intendo della Russia, è una cosa necessaria. Non volendo mettere boots on the ground, perché quello non lo faremo sicuramente, a meno che non accada qualcosa di terribile, io penso che non ci sia altra strada che quella del logoramento senza indugi, senza incertezze del logoramento economico. Sarei anche favorevole a soluzioni più drastiche, però stante l'attuale situazione non ne vedo altre percorribili. E questo in ottica non soltanto di difendere l'autonomia, la libertà degli ucraini, ma anche quello di difendere la serenità, quantomeno, degli altri paesi che sono confinanti con Russia e Bellorussia. C'è un Putin debole con economia debole, con i pezzi di ricambio che mancano, tanto per farla semplice, e un Putin meno pericoloso rispetto a quello che potrebbe essere se le sanzioni non venissero applicate. D'altra parte abbiamo visto che quando ha fatto quello che ha fatto in Cecene, in Georgia, in Crimea e anche in Dobbas, e noi abbiamo sostanzialmente fatto finta di nulla alzando una spalla, abbiamo visto che cosa è successo, che poi lui, Buzzo and the Grand, ci è andato e ha cominciato a bombardare Kiev, Kharkiv e ha fatto proprio questo martello.